Ciao ragazzi! Ciao Gaia! Possiamo entrare? Certo! Permesso! Bella casa! Wow! Volete un gelato? Non lo so! Sì, volentieri! Ci possiamo mettere intanto qua? Certo! Vado a prendere il gelato allora! Grazie! Grazie mille! Grazie mille! Gaia, ma io ti devo aggiornare su un po' di holiday, te non lo sai ora! Allora, Tommaso ha un po' delle fissazioni... Te lo ricordi la storia del 2008? Di 08? No, è successo... Beh, sono successe delle cose che ora lei si è fissato con queste 2008, quindi ora si è fissato con le 2008 che sono immature... Senti, ma avviene qualcun altro? No, no, no! Come andi visto? Nessuno? No! Ah! Ok! Mi puoi dire dov'è il bagno? Sì, è... là dietro! Ok, arrivo subito, va bene? Ok! Oddio, quanti compiti danno! Charlotte? Chi è? Non lo so! Tommaso! No, no, no! Oddio! Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Vedi, rispondi, rispondi, vai! Eila? Pronto? Senti, ti dovrei parlare... Possiamo... Puoi venire da me qui? Sono da Gaia? No, sono a casa di Charlotte. Sei da Charlotte? Vabbè, allora veniamo noi, va bene? Non venire, no! Eh, stiamo studiando... Eh, non venire! No, come no? No, io devo venire per forza, Lale, per favore! Sì, va bene, vengo, ciao, ciao! Ok... Ciao! Che ha detto? Sta arrivando, Charlotte! Oh, non ci posso che... Ma ti piace? No, Charlotte, no! Cosa facciamo? Sei sicura non ti piaccia? No... Ok... Allora... Facciamo così... Ti nascondi, per favore! Ma... Ok, 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 ok! Allora, io ti lascio qua dentro, qua in camera! Ok, io sto in camera! Ok! Te non dire niente! Sì, ok! Te non uscire, mi raccomando! Non esco! Ok, ok, ok! Sta arrivando ora! Ok, come sta? Ma, Maria! Sì, 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 hai fatto calcio! Maria, a dopo! Non uscire! Non esco! Mi raccomando! No, perché devi sapere che Tommaso ha dei gusti orribili, infatti, di ragazze! Dice che le 2008 sono immature e quindi adesso ha deciso di riprovarci con Ilaria! Cioè, da te che rendi, punto? Quindi? Cioè, vorresti riprovarci di nuovo con Charlotte e Leonardo? Ehm... Questo non si... Ah, è terminato dal bagno! Allora, andiamo a casa di Charlotte? A casa di Charlotte? Sì! Devo parlare con Ilaria, quindi... Andiamo? Deve parlare con Ilaria! Certo, andiamo a casa di Charlotte! Muoviamoci! Vabbè! Siamo quasi arrivati, no? Sì! Sì! Ragazzi, aspettate, voi andate intanto, io vi raggiungo! Ok! Va bene! Pronto, Augusto! Sì, ciao! Allora, volevo dirti di venire a casa della Charlotte, me l'ha detto lei! Sì! Ok, muoviti allora! Va bene! Ciao! 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 Ma cosa ci fate voi qua? Eh sì, scusa il poco preavviso, ma Tommaso doveva parlare con Ilaria! Ehm... Oh, come noi ci sarei chiusi! Ciao, Gaia! Ciao! Ok, Tommaso doveva parlare con... Sì, ha detto che doveva parlare con Ilaria! Ehm, altra cosa! Ilaria? Dov'è? Ilaria? Sì! Ehm... Ilaria non c'è! Oggi, oggi non c'è, è a casa mia! Nooo... Vabbè, ehm... Se mentre aspettiamo facciamo il gioco della bottiglia, che ne dite? Ehm... Sei sicuro di voler giocare? Beh, almeno passiamo il tempo, no? Te invece sei sicura che Ilaria non ci sia? Ma che se ne frega? Giochiamo al gioco della bottiglia? Sicura! Oh! Dov'è una bottiglia? Su! Dai! Ok, prendo la bottiglia! Allora, chi inizia? Io? Sì, però aspettate, qua è un po' scomodo! Mi metto qui! Ok? Senti, ma te sei proprio sicura che non ci sia Ilaria? Perché vedo delle scarpe familiari laggiù! Sì, sono sicura che Ilaria non ci sia, tranquilla! Le ho comprate anch'io uguali! Sì! Ilaria! Oh! Ciao Ilaria! Che sorpresa! Il marino è in camera! Ilaria, cosa ci fai qui? Vieni! A questo punto già l'avamo noi! Dicevamo! Allora, parto? Sì! Sì! Ilaria! Secondo me è Leonardo! No, secondo me è Leonardo! Rifacciamo! No, ma è Ilaria! Cioè, era più verso di lei, no? Vero? No! Vedi, anche Gaia lo dice! Bene! Attimo! Allora... Almeno è il 2006, no? Pronta? Baci! 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 Che carino! Ok! Andiamo avanti? Sì! Chi lo fa? Ora sta a me! Vediamo! Mi stessa non posso! Leonardo! Oh! Ehm... Allora... Dobbiamo baciarci? Sì! Dobbiamo baciarci! Ehm... In bocca giusto? Sì! Ah, così almeno vedo come si baciano nel 2008, sì sì, bravi! Scusa, non puoi pensare a te piuttosto a come bacilarli e non come bacio io? Ah sì, ovvio! Lo faccio, lo faccio! Tranquilla! Vieni! Sto tranquilla! Lo fa? Sì! Ma ciao! Nooo! Oddio! Santo! Ti ho portato un regalo! Eh, lo vediamo! E anche bene! Sì! Sì! Grazie August! Davvero gentilissimo per... L'orso! Ma di niente! Che ci fai esattamente qua? Ah ma puoi giocare alla bottiglia! Mi misco anch'io! Sì! Augustino! Vieni sediti accanto a me! Ma subito! E... Se stiamo cambiando i posti... Vieni qua! Sì! Io regolino! Ma certo! Ovvio ho già credito! Io mi metto qua! Ti ringrazio per l'invito! Ma... Esattamente... Quando ci hai invitato? Eh... In realtà è me che... Ma come... Continuiamo il gioco! Vale a chissà! Ehm... Augusto non è arrivato adesso? Tieni! Vai! Andiamo! No! Io sono già stato preso! Mi dispiace! Eh... Capi sono tutti! Io! Io! Con te! No! Io con Augusto! Non mi... Ok! Va bene! Allora è tanto solo un basso! Ok? No! Non calzarmi! No! No! Io e te dobbiamo... Anteriore ti dovevo dire quella cosa! Già! Eh sì! Prendo anche questo da fare ci sono! Perfetto! Andiamo! Ci fa compagnia! Esattamente dove state andando! Voi sapete qualcosa? No! Trovo tutto questo molto divertente! Molto! Allora! Temi il proprio stancato! Adesso! Allora! Sfrutto il momento! Eh... Ti dovrei parlare! Andiamo di là! Eh... Ok! Eccoci! Eh... Ok! Ehm... Quindi? Gaia! Lei ha invitato te a busso? Eh... Sì! Cioè... Perché le hai invitato? Perché... Ti vuole bene! Cioè... Anche il regalo che ti ha fatto! Ok! Ma... Capisci che... Lilaia! La mia migliore amica! Mi sta tradendo! Con il suo... Con il... Con il... Con una persona a cui io tenevo veramente tanto! E... Pensare che... Ah! Eh... Scusa! Comunque... Dove sono andati... Leonardo e... Augusto! Non lo so dove sono andati, ok? Non lo so! Non ne ho... Non ne ho idea! Ok! Tutto bene? Sì! Senti, allora ti volevo dire... Ehm... Perché non ci mettiamo insieme? No! Tommaso, io non voglio litigare con Charlotte un'altra volta! Lo sai, siamo migliori amiche! Non posso fare questo! Poi... Testami con lei! Cosa ti hai preso? Fermo qua! Oh! Ti avrò detto almeno mille volte... Che non devi venire... Qua a rompere le scatole a casa di Charlotte quando siamo tutti insieme! Guarda, non ci vengo più! Però... Sì, ma non ci vieni più! L'hai già detto 300 volte! Evidentemente... Vabbè, facciamo l'ultima volta, no? No! Ehm... Si affabasta, no? No! Oh! No, oh, oh, oh! Ma che fai? Ti vorrei tagliare, però non posso! Ah! Oh! Stai fermo! No! No, lasciami andare! Vieni qua! No! Siediti! Giù! Ok! Ehm... Manca ancora qualcosa! No! Ehm... Allora, parliamone! Stai zitto! Questi! No! Allora, guarda davvero! Non vengo più! No! Mi hai stancato! Basta! Ma... Sono serio! Cioè, guarda! Dai, te lo dico per l'ultima volta! Non vengo più! Oh! Ora guarda cosa ti faccio! Se ti dico che non devi venire! Oh! Spero ti sia servito! E questo? Riforzalo dove l'hai comprato! Scusa! Scusa! Augusto! Cosa ci fai qua? Guarda! Io... Io se devo essere sincero mi preferisco finanzarmi con te che con Charlo! Quindi questo qua è mio? Tutto tuo! Te lo regalo! Ok! Gaia aiutami! Ti prendi! Sì! Grazie! Sì! Fatti una domanda, no? Senti, ma... Perché non stiamo insieme di te? Come... Come dall'inizio? Cioè, dai... Ammettilo che siamo sempre stati bene insieme in fondo, no? Sì! 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 È acqua passata, no? Lo sai bene anche te! Leonardo! Puoi stare tranquillo che tanto non mi metto col Charlo! Che... Mi sono finanziato con Gaia! Beh... No, non stai con me! Ti sarai fidati addosso, d'assicurano con... Mi sicuro non con me! Bene! Anche noi due non stiamo insieme! Eh... Sì... No! No Guarda, te puoi stare tranquillo Io qui non ci torno più Sì, va bene Sì, però anche te la mano Lasciala qui, non farla tornare più qua, ok? Ok Ma capisci tutto, al volo Ma, Tommaso e Ilaria È tanto, no, che sono là dentro Cosa stanno facendo, secondo voi? Vabbè, staranno parlando il posto Andiamo a vedere Ilaria, vuoi capire che è troppo piccola? È troppo piccola, è 08 Non mi va Tu sei più matura? Cioè, voglio te Sì, però lei è la mia migliore amica Non posso farle questo Non so, ma io sono da solo Mi sento solo, sono single Te sei single perché noi ci fidanziamo insieme Ma Ve lo vuoi? Eh, sì Quindi è un sì Sì Che scena romantica Charlotte Ottimo lavoro Veramente Complimenti Grazie Grazie